Dopo le ultime vicende successe la settimana scorsa oggi torniamo a parlare di cose che ci piacciono quest'oggi ci sarà l'evoluzione della front double bicep di Dorian Yates una posa che lo ha sempre penalizzato nei suoi anni migliori a causa di infortuni ma una posa che a inizio della sua carriera era veramente molto molto buona faremo l'evoluzione di questa posa dal 1991 quando ha fatto il suo primo Olimpia sino al 97 quando fece il suo ultimo Olimpia quindi saranno solo 6 anni partiamo dal 91 quando fece il suo primo Olimpia anche se era qualificato anche all'Olimpia del 90 in quanto era arrivato secondo alla Night of Champions forse non ha gareggiato perché in quell'Olimpia c'erano i test anti-doping però non l'ha mai detto comunque in questa posa Dorian sta veramente molto bene non è come appunto negli ultimi anni della sua carriera i suoi bicipiti hanno un'attaccatura abbastanza stretta però nel complesso in questa posa ha un fisico molto bilanciato le gambe che sono sempre state un problema per lui specialmente con i bicipiti sono ben proporzionati con l'upper body ha anche un buon effetto AV perché c'è la garberina in quei dorsali e la condizione è impeccabile passiamo poi al 92 purtroppo ho trovato solo questa foto di uno shooting fotografico sul palco non ho trovato alcuna foto o foto decenti comunque anche qui il fisico di Dorian è ben bilanciato tra la parte superiore e inferiore ora facciamo un confronto tra le due annate dal confronto non risultano grosse differenze purtroppo è molto difficile fare confronti tra foto su un palco e foto in uno shooting perché l'ambiente è diverso comunque non vedo grosse differenze Dorian sicuramente era un po' più grosso nel 92 però purtroppo non si vede molto in questa foto in entrambe le foto la condizione è ottima passiamo poi all'anno in cui Dorian cambiò radicalmente il bodybuilding per sempre ovvero il 93 ho messo due foto che sono sempre del 93 una del pregare e una è delle finali qui Dorian come sappiamo tutti ha cambiato il bodybuilding completamente ha introdotto la massa è stato il primo mass monster Dorian dal 92 al 93 fece un cambiamento spettacolare purtroppo è riuscito a mettere massa solo nell'upper body le gambe qui si nota molto che sono molto indietro se vedete nel 91 e nel 92 non si vedeva molto questa mancanza di quadricipiti mentre nel 93 si nota molto perché è diventato molto più grosso nell'upper body però le gambe sono rimaste indietro comunque nel complesso la condizione è sempre in tutte e tre le annate ottima Dorian ha messo naturalmente molta molta massa la vita forse è un po' più larghina però noto che i dorsali sono anche molto più larghi quindi ha un buon effetto a V purtroppo però le braccia i bicipiti hanno sempre la stessa attaccatura purtroppo quella non si può cambiare passiamo poi al 94 purtroppo questa era l'unica foto che ho trovato non è il massimo della foto fa quasi sembrare che Dorian sia fuori forma in realtà Dorian al 94 era in una forma veramente spettacolare forse era anche più definito del 93 forse farò anche un video di confronto tra il 93 e il 94 però userò le pose in routine farò il confronto con le pose in routine e non con le foto qui Dorian si era strappato il bicipite il bicipite sinistro quindi la posa risultava poco simmetrica ora facciamo il confronto con le altre annate come vedete il bicipite sinistro è completamente andato causa infortunio sembra purtroppo che Dorian sia fuori forma al 94 però ripeto non è così Dorian era in ottima forma quell'annata la vita secondo me man mano che gli anni passavano si è leggermente allargata però ripeto si sono anche allargati molto i dorsali quindi conservava bene un buon effetto AV dato il bicipite strappato nel 94 non è una posa fantastica perché appunto è poco simmetrico e le gambe sono anche indietro rispetto all'upper body passiamo poi al 95 qui forse Dorian non aveva la stessa condizione del 94 e il 93 ho notato che nel 95 e anche forse nel 94 la sua zona addominale è diventata un po' più spessa non dico che spanciava però è diventata un po' più spessa ecco qui il confronto con le altre annate forse ecco come detto prima dal 94 in poi l'addome è diventato un po' più spesso lui ha sempre sostenuto che ha iniziato a spanciare dal 96 dopo che aveva iniziato a prendere insulina lui ha sempre sostenuto che la causa del suo spanciamento dal 96 in poi sia stato dovuto appunto a un utilizzo di insulina però qui l'addome è ancora ben controllato solo ho notato che è un po' più spesso passiamo poi alla 96 penso che questa sia una foto del German Grand Prix del 96 un'altra delle migliori forme di Dorian Yates Dorian in quel Grand Prix era veramente qualcosa di incredibile qui penso che stia facendo anche una sorta di vacuum perché non contrae i suoi addominali però si nota che ha il busto un po' più lungo del solito quindi penso che stia facendo una sorta di vacuum non è come un vacuum spettacolare però non sta contraendolo gli addominali il bicipite è completamente andato poi purtroppo negli anni non è neanche mai riuscito ad avere dei belli tercipiti nel front non sto parlando della forma del tercipite nel side trice ma sto proprio parlando dello spessore del tercipite in questa pose non è mai riuscito ecco a compensare questa mancanza di spessore nel tercipite e anche di berge in generale ecco comunque forse qui si nota un po' di più che sta facendo un vacuum se per esempio confrontate tra il 96 e il 94 il 94 con 3 va all'addome mentre qui è un po' più lungo quindi penso che stia facendo un vacuum e la vita nel 96 è notevolmente molto ma molto più stretta rispetto agli altri nati forse la vita del 96 è al pari del 91 perché erano in entrambe le nati veramente molto molto stretta e infine passiamo al 97 qui Dolian era completamente a pezzi era distrutto si era strappato il tricipite sempre il tricipite sinistro quindi aveva completamente un braccio fuori uso e a poche settimane all'Olimpia aveva avuto anche un'emorragia interna ed era stato ricoverato in ospedale quindi Dolian era completamente a pezzi qui si nota che sta spanciando e lui ha sempre sostenuto che la causa sia stato un utilizzo di insulina e non è che una combinazione di cibo e altri fattori qui la vita è notevolmente molto più larga ripeto il braccio sinistro è completamente andato spancia e la vita è molto più larga e forse non è neanche la stessa condizione delle altre annate ecco qui il confronto totale di questi sei anni in questi anni Dolian ha preso un bel po' di massa ma veramente tanta 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 in solo solamente sei anni però si è completamente distrutto il braccio è completamente distrutto la vita li si è allargata molto e ha iniziato anche a spanciare purtroppo non è mai riuscito a compensare questa sua mancanza di quadricipiti le gambe dal 93 in poi non sono mai state al pari dell'upper body invece nel 91 e nel 92 c'era un buon bilanciamento non fantastico però comunque c'era un buon bilanciamento purtroppo dal 93 in poi questo bilanciamento è sempre andato a diminuire comunque Dolian ha completamente rivoluzionato questa posa in sei anni insieme a una persona diversa all'inizio era anche molto buona questa posa perché appunto c'era un buon bilanciamento le sue baci erano buone e aveva una vita stretta poi negli anni è andata anche a peggiorare rivelandosi così forse la sua peggior posa da quando ha vinto il mister Olimpia comunque fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate di questa evoluzione del front double bicep di Dorian Yates e se avete in mente qualche altra evoluzione di pose che volete che io faccia se avete qualcosa in mente fruttino scrivetemelo nei commenti vi chiedo il like un commento come al solito e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti